Maxi Rissa tra giovani sassaresi ed extracomunitari, una settantina di persone in tutto nel quartiere di Santa Maria di Pisa in Piazza Dettori. Lo scontro ha avuto origine ieri sera nelle vicinanze della Casa di Accoglienza per Migranti del Pime in Via Solari. Poco prima delle 13 un ragazzo africano era stato picchiato, quando in serata è ritornato in Piazza Dettori accompagnato da un amico per acquistare delle sigarette e è stato nuovamente aggredito. Dal centro di accoglienza sono però arrivati rinforzi e la piazza si è trasformata in un campo di battaglia dove decine di ragazzi armati di bastoni, pietre e bottiglie si sono fronteggiati. Solo con l'arrivo delle volanti della polizia e delle patuglie dei carabinieri è stata riportata la calma. Due ragazzi stranieri e uno sassarese sono rimasti leggermente feriti.